Un pareggio che alla fine forse scontenta sia il paterno che il capistrello. I primi per aver sbagliato un calcio di rigore dopo 8 minuti, che avrebbe potuto cambiare radicalmente il corso della gara, e il capistrello per non aver concretizzato nella prima frazione le opportunità che gli avversari hanno concesso in abbondanza. Ma è stato un derby vero, con tutti gli ingredienti della partita di cartello. Con una degna cornice di pubblico, con scontri in campo tra due squadre che non si sono risparmiate e con tanti rimpianti da una parte e dall'altra. Il calendario indica come squadra ospitante il paterno, ma obiettivamente è difficile dire chi sia il vero padrone di casa, e dopo 8 minuti accade qualcosa che potrebbe cambiare radicalmente il corso della partita. Sassarini crossa un pallone dalla destra, in area Cicchinelli tocca vistosamente con un braccio e la bravissima Claudia Maroli indica decisa il dischetto del rigore. Il capistrello prova a protestare, ma lo fa in maniera molto civile, anche perché il tocco di Cicchinelli è stato notato da tutti. Sul dischetto va Albertazzi, che però angola troppo la conclusione e mette fuori tra la disperazione dei suoi. Passano 4 minuti e va in vantaggio il capistrello. Aquino fa da sponda per Pollino, che al limite dell'area carica il destro e fa secco imparabilmente Ranalletta, con una traiettoria tanto bella quanto efficace. Il paterno accusa visibilmente il colpo e dopo altri due minuti si registra una ripartenza granata, con la palla che finisce sui piedi di Aquino, che ci prova ma conclude al lato. Ventesimo, Edoardo De Meis controlla il limite e di sinistro cerca la porta, ma con scarsa precisione. Si scuote il paterno con Albertazzi, che arma il sinistro dal limite dell'area, ma svirgola malamente e i risultati sono quelli che abbiamo appena visto. Intanto i due centrali Granata, Luca De Meis e Antonelli, si confermano insuperabili per chiunque e Di Girolamo trascorre un pomeriggio tutto sommato tranquillo. L'ultima azione del primo tempo è di marca locale, si fa per dire, quando sulla battuta del primo corner i nerazzurri chiedono un nuovo rigore, che l'arbitro non ha esitazione a negare. Passiamo adesso alla ripresa, che sarà quasi tutta a pannaggio del paterno, che inizia deciso a rimontare e approfitta anche di un calo forse fisico da parte degli avversari. All'ottavo minuto c'è un cross dalla sinistra e sul pallone che transita in area, Luca De Meis prova ad allontanare di testa, ma indirizza proprio sui piedi Di Mastroianni, che controlla e insacca rasoterra alla destra dell'incolpevole Di Girolamo. Uno a uno è tutto da rifare. La partita si incattivisce un tantino e gli scontri decisi sono sempre più numerosi, così che prima Pollino e poi Tabacco e successivamente Luca De Meis sono costretti all'abbandono anticipato per infortunio. Segue un quarto d'ora condito solo dalle buone intenzioni e al ventisesimo Mercogliano riceve, stoppa di petto e gira verso la porta di Di Girolamo, mancandola per pochissimo. Sale in cattedra il paterno, Sassarini offre a Schipel che avanza e tira, spaventando non poco di Girolamo. Mezz'ora, avanza Mercogliano che va sul fondo e crossa per Mastroianni che al volo mette pericolosamente a lato. Risposta di guerra un minuto più tardi con un servizio per Aquino che tira di sinistro ma troppo debolmente e Ranalletta non corre alcun pericolo. E per finire vi mostriamo questo tentativo aereo di Conè su angolo di Cordischi ma anche stavolta la mira risulta imprecisa. Inutili anche i cinque minuti di recupero concessi da Claudio Amaroli. Paterno e Capistrello portano a casa un punto ciascuno. Il primo ad arrivare per l'intervista è Saverio Mastroianni. Guardate, la maglietta dice tutto, 150 gol e questo è un gol importante. Allora, una carriera ricca ma ancora lunga da proseguire ancora per tanto tempo, no? Allora, partiamo prima dal pareggio importantissimo perché è la cosa che contava di più. Noi servivano punti e se il gol mi ha servito a dare un punto importante è la cosa più bella. Poi il 150esimo gol è una soddisfazione personale e ripaga tanti sacrifici che ho fatto. Senti, di questi 150, uno in particolare, te lo ricordi? Sì, quando giocavo a Novi Ligure in Serie D, Spezia Novese, stavano 6.000 persone, feci un gol di rovesciata sotto la curva ferrovia e è un'emozione unica. Ormai mancano poche partite alla fine di questo campionato, conti di mettere a segno ancora qualcun altro? Se sono gol che servono per portare ancora più in alto il Paterno, sì, se devo fare gol che non servono preferisco non farli e farli a segnare qualcun altro. l'importante è il Paterno ora. Come festeggerai stasera questo 150esimo gol? C'è la mia fidanzata che oggi comunque non è venuta a vedere la partita per Scaramanzia e mi aspetta a casa, facciamo una bella cena tra di noi con molto amore, dai. Il resto non lo vogliamo sapere, bocca al lupo. Un tempo ciascuno, il primo per il Capistello, il secondo per il Paterno. Fabio Odice, soddisfatto? Forse no. No, perché no? Abbiamo fatto un punto fuori casa, quindi... Chiaro che una volta passato in vantaggio è normale che uno cerca di fare il secondo colo, ma lo sapevamo che non era facile, quindi... Anche perché poi il secondo tempo il Paterno è rientrato bene, forse meglio di noi, quindi poi alla fine che del pareggio sia giusto. Ecco, il calo, questo calo è abbastanza netto, abbastanza evidente nel secondo tempo. Che cosa è successo? Ma abbiamo qualche problema fisico, più di qualcuno. Poi il primo caldo, secondo me il primo tempo abbiamo dato tanto, abbiamo corso tanto, quindi poi nel secondo tempo un po' il Paterno ci ha aggredito un po' più alto, un po' la condizione, siamo andati un po' in difficoltà, però poi credo che alla fine abbiamo rischiato poco. Tanti scontri anche abbastanza duri, qualcuno è dovuto uscire per infortunio. Un derby vero quindi? Sì, vabbè, ma in baglio ci stavano... Per quanto riguarda Paterno servono punti per stare più tranquilli, noi per quanto riguarda la play-off, ma è normale che alla fine le partite sono tirate, quindi sicuramente non vedi belle partite, ma vedi partite tirate. È stata una bella partita e penso ci mettiamo il punto e siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Play-off quindi che sono fatti apposta per voi, per il Capistello, ci state dentro ormai? Ma ci siamo dentro, intanto abbiamo vincito meno l'Acqua e Sapone, poi vediamo che succede l'ultima partita, quindi lo spoltore ha pareggiato, l'Alba Triatica non lo so, gioca dalle quattro, questa è una cosa strana. Eh infatti, perché permettere ad una diretta concorrente di giocare un'ora dopo, quindi con il risultato già conosciuto? Vabbè, ma dovrei dire una cattiveria, ma non la... E dilla. No, me la tengo perché sennò poi... Vabbè, lo sappiamo che non è giusto, però purtroppo la Lega ha deciso così e prendiamo atto. Manca ormai pochissimo, il campionato che ha fatto il Capistello è quello che ti aspettavi, quello che ti aveva chiesto alla società? No, a me la società mi ha chiesto la salvezza, quindi prima di riscrivere la salvezza. Per come siamo partiti, è chiaro che poi una volta partiti la squadra ha fatto bene, abbiamo avuto un calo nel periodo di gennaio, dicembre e gennaio, perché comunque abbiamo perso dei giocatori importanti, infortuni. Adesso piano piano stiamo ricorando tutti e ce la giochiamo fino alla fine, però l'obiettivo nostro è la salvezza. E arriva anche Tonino Torti, allora un primo tempo non certo buono, il secondo veramente alla grande, un rigore sbagliato e quindi soddisfatto o no? E' ovvio, soddisfatto perché abbiamo incontrato una squadra forte, perché lo sapevamo, io penso che all'inizio dell'anno forse o a te o a qualche tuo collega ho detto che il Capistello aveva una squadra importante e oggi l'ha dimostrato, la classifica che ha la merita tutta. Era un campo difficile, però noi il primo tempo, certo, dalla possibilità di passare in vantaggio, siamo poi passati in vantaggio, sicuramente a livello mentale è un po' questo pesato, no? Tanto è vero che Albertazzi qualche, come si dice, reminescenza di quell'errore ce l'ha avuto, no? Poi però al secondo tempo ci siamo messi un po' diversamente, 4-3-3, lì abbiamo giocato secondo me bene e abbiamo meritato di pareggiare, quindi sono soddisfatto. Ecco, se avessi segnato quel rigore Albertazzi, cosa avrebbe cambiato secondo te per l'esperienza che c'è tu? Beh, è ovvio che molto probabilmente noi a livello mentale sicuramente saremmo cresciuti, no? Ci dava più tranquillità, più consapevolezza, no? Poi queste sono partite, sono derby che esulano da qualsiasi risultato, è ovvio avere la possibilità di passare in vantaggio non l'hai. Poi dopo due minuti prendiamo il gol, è ovvio che mentalmente questa è una situazione che si fa sentire, però devo dire che poi la squadra al secondo tempo ha fatto veramente un ottimo secondo tempo e quindi sono soddisfatto. Dicevo Magliotici, tanti scontri anche abbastanza duri, le sostituzioni sono state obbligate, classiche di un derby, no? Sì, vabbè, l'ho detto prima, queste sono partite che esulano da qualsiasi risultato perché poverà vincere il capistrello, potevamo vincere noi, è uscito il pareggio penso meritatamente, ma è giusto il pareggio. Gli scontri sono stati però, penso alla fine, corretti perché poi alla fine molti infortuni sono stati dovuti alla casualità, per cui va bene così, solo che noi purtroppo sugli infortuni mettiamo altri infortunati. Quest'anno veramente è stata un'annata particolare, sempre infortunare, però il calcio è così, dobbiamo prendere quello che ci dà. Siete salvi? Io penso che matematicamente ancora no, per cui dobbiamo fare ancora qualcosina, vediamo domenica di andare a chiudere questo discorso con l'angolana che è salva, per cui va bene così dai.